E qui, manca da toto. Fabio, è proprio non c'è. Fabio è all'occasione, che c'è? Già, già! Già, già! C'è stato assoluto la pasta! C'è stato un goccio per voi! A mia figlia, a mia figlia! A Clara, a Clara! A Clara! A Clara, sei stato fantastico! No, Clara, mia figlia! Dica a Clara! No, a tu padre! Caruccio papà, dove è la porta?